Io credo che sono una persona che ha pagato per essere quello che voleva essere. Ha pagato con la propria esistenza. Rocco vive due vite, quella di padre e quella di proprietario di un titolo, di un mito. Rocco Siffredi. Rocco Siffredi. Come si è la passione? Posso mostrare. Mostrare. Ok. Sono felice di essere una moglie di Rocco Siffredi. Sì, vivo sereno. Sono nato nel 95. Il mio figlio è nato nel 96. Oh, wow. E questo mi ha fatto. Però voi non me l'avete mai chiesto perché hai scelto di fare film. Voi me l'avete visto. E questo è la cosa che persone non rilassano. Questa è una carriera. Non è una gioca. È stato un po' di tempo che ho pensato. Probabilmente ora è il momento giusto. Per perdere. Ho un casto per Rocco Siffredi. Il casto per il suo ultimo film che sta starando. E se sei fortunato, sarai in. Sento che mi rende negato in fronte di mio padre o qualcosa. Tutte le immagini se ogni attore di Hollywood arriva a 50 anni e dice Non faccio più i film. Non riesco a godere di una vita bella, spezzierata quando tutto ciò faccio di tutto per rovinarmela. La mia sessualità, mio diavolo. E quando perdi il controllo, diventa un caos.